A pochi giorni dal matrimonio della figlia negli Stati Uniti, spunto una rara fotografia di Paolo Bonolis insieme all'ex moglie Diana Zöller. I due, sposati dal 1983 al 1988, si sono rivisti proprio in occasione delle nozze di Martin Han Bonolis e si sono fatti ritrarre sorridenti nello stesso scatto. Tra i primi a mettere like all'immagine postata su Instagram, anche l'attuale moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, segno di una situazione familiare allargata e pacifica. Bonolis e la Bruganelli sono una coppia da oltre 20 anni e dalla loro unione sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele. Recentemente è stato lo stesso Bonolis a spiegare che ad aiutarlo a recuperare il rapporto con i suoi due figli americani è stata proprio la Bruganelli.